torniamo con il nostro appuntamento sull'andamento nel nostro portafoglio insieme che abbiamo creato su itoro scopriamo come procedono le aziende che abbiamo aggiunto assieme tramite i sondaggi che abbiamo anzi che ho pubblicato su telegram le performance e quali potrebbero essere le nostre scelte future e soprattutto andiamo anche a dare novità sulla gestione e sull'aggiornamento di questo portafoglio ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF e attore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro che puoi acquistare dal link qui sotto che trovi nella descrizione del video da inizio anno le performance dei mercati internazionali soprattutto quello americano europeo due mercati sui quali abbiamo principalmente puntato ci siamo principalmente esposti su questo portafoglio non ha fatto altro che darci grandi preoccupazioni cali da dopoguerra previsioni non proprio rose e una situazione attuale fra inflazione guerra virus e vari che ancora devono arrivare sicuramente non sono un'invasione aliena e sicuramente non promettono nulla di buono abbiamo toccato il fondo avendo creato questo portafoglio lo scorso anno e per cui a dei molti più molto alti ma devo dire che sinceramente avendolo guardato oggi quando sto realizzando questo video dopo tanto tempo pensavo sinceramente peggio andiamo al pc a guardarlo e poi fra magari tre mesi o più o meno 4 tra novembre e dicembre lo andiamo a riguardare per vedere cosa ne esce fuori allora eccoci qui sulla pagina principale del mio account editorio del mio portafoglio virtuale e andiamo a notare subito come nei primi due posti troviamo due reeds tra l'altro uno molto famoso realt income che conosciamo tutti che sta guadagnando quasi un 11 per cento e poi abbiamo il famosissimo omega healthcare investor che è un reed appunto che investe in strutture di tipo medico e questo reed è stato per tanto tempo su e giù anzi prevalentemente giù e invece in questo momento sta apportando quasi un 5 e mezzo per cento di guadagno al nostro portafoglio ricordo per chi lo avesse dimenticato che ogni posizione ma poi si vede anche da qui dallo schermo è stato fatto un investimento per ogni posizione equa di 10 mila dollari e poi andiamo a vedere come si sono andati a evolvere appunto queste posizioni johnson johnson si trova al terzo posto con quasi un 4 per cento e procter and gamble 1,1 per cento per cui in linea di massima si può comprendere come tutte quelle azioni quelle aziende di tipo conservativo o comunque come si possono dire consumer durable o come si vuol dire quelle che tendono a rimanere come nella mente delle persone stabili che stanno lì per resistere per sempre sono ai primi posti mentre ovviamente tutte quelle aziende che vengono considerate dagli investitori come un qualcosa di superfluo comunque di non necessario al cento per cento le vediamo sotto abbiamo l'oreal appunto cosmetica microsoft louis vuitton che il lusso american express è l'unica forse che un po mi va a suonare strano là in mezzo poi google l'i share sul rasso del 2000 quindi sulle piccole aziende a bassa capitalizzazione americane che sono quelle che hanno subito di più ma nel momento della ripresa a mio parere sono quelle che saliranno di più staking d'assi che era cresciuto tantissimo così come medical property trust due rit che uno dei quali l'ho anche il mio portafoglio personale stag che sono comunque sempre stati sulla bocca di tutti secondo me un po eccessivamente stag ha avuto una crescita troppo impressionante ovviamente nel momento in cui c'è stata la il blocco appunto o la sensazione di blocco per quanto riguarda il settore industriale per varie mancanze appunto della catena di approvvigionamento e della logistica è calata mentre medical property trust in questo momento a mio parere si trova un ottimo prezzo un prezzo in cui potrei pensare di entrare poi ovviamente abbiamo intel che ha avuto un po di problemi nelle ultime trimestrali amazon che ha avuto anche qualche suo problemino sulle trimestrali amc research meta platform non sappiamo tutti come è andata a finire l'ultima trimestrale ma comunque come sta andando quest'anno per meta e marathon digital che tra l'altro vedo qui e toro blocca la vendita insomma ci troviamo in situazione piuttosto particolare con una perdita stimata di 26.587 dollari tra l'altro fortunatamente stiamo parlando di un portafoglio di tipo virtuale però sicuramente se molti di voi o molti di noi in generale si fossero trovati nella stessa situazione con gli stessi soldi quindi con lo stesso patrimonio ad avere una perdita di questo tipo molto probabilmente il cuore avrebbe cominciato a battere un po più velocemente quali sono le novità diciamo del portafoglio abbiamo ancora 44 mila dollari di liquidità disponibile quello che vorrei andare a fare nei prossimi mesi da qui fino a dicembre farò un unico video in cui andrò poi a spiegare quale sono le posizioni che vorrei andare in mediale e quali no e perché poi lancerò appunto anche lì un eventuale sondaggio su telegram in cui appunto potete scegliere fra una o più aziende quella che volete aumentare o diminuire nel portafoglio ma la novità è che questo portafoglio lo andiamo poi a guardare non più mensilmente ma circa ogni 3-4 mesi perché ovviamente essendo un portafoglio di tipo virtuale ha poco senso andarlo a guardare più spesso mentre come avevo promesso relativamente anche al risultato del sondaggio l'aggiornamento del mio portafoglio personale quello reale che è diviso fra in parte su directa per quanto riguarda il pack per mio figlio e in parte su saxo bank bg saxo per quanto riguarda tutto quello che è mio quindi etf e azioni singole lo andrò a fare mensilmente così appunto come mi hai capito di percepire che è vostro interesse volevo avere un vostro feedback riguardo a come si è andato a evolvere il portafoglio se lo pensate così ancora come ottimale così come quando lo abbiamo impostato insieme oppure se a questo punto pensiate che alcune aziende relativamente anche a quello che è accaduto nelle ultime trimestrali e quelli che sono anche il forecast per il futuro possono essere eliminate ridotte o non aumentate ovviamente questo lo decideremo insieme come abbiamo fatto fino adesso per cui chiudiamo questo video ritorniamo alla mia faccia per le ultime considerazioni bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi dell'evoluzione del portafoglio e delle considerazioni fatte durante questo video spero che questo contenuto sia stato il tuo gradimento se così fosse ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per la condizione youtube e anche un commento per farmi capire che apprezzi questi contenuti nella sezione dei commenti ti chiedo anche di lasciare i tuoi spunti di riflessioni da condividere con la community e se poi sei nuovo sul canale ovviamente ti consiglio di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perditi nessun contenuto pubblicato successivamente se poi vuoi prenotare con me un accordo di educazione finanziaria trovi anche qui sotto il link per poterla prenotare bene anche per oggi è tutto ti ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo un prossimo video ciao a presto